ok abbiamo avviato la registrazione ci siamo già un po salutati prima con chi c'è e benvenuto anche chi seguirà in differita questa presentazione io perché non mi conoscesse dico solo due brevi parole su di me solo per capire come mai sono qui a parlarvi oggi e poi vi racconterò un po qualcosina già sul mondo delle erbe quindi per darvi già qualcosa un po di così di gustoso sul mondo erboristico da portarvi a casa e poi vi darò qualche informazione sul corso che partirà questa domenica io mi chiamo marco fossati in questo momento sono a genova che anche la terra dove sono nato e mi sono laureato in scienze erboristiche all'università di pisa con la tesi su piante spontanee della liguria quindi sulla parte più mangereccia diciamo così ma mangereccia non solo quindi anche cosa c'è di buono per la nostra salute in queste piante da diverso tempo mi occupo sia di benessere che di natura diciamo così e ho messo insieme tutti questi vari pezzi del lavoro che già svolgevo per creare un approccio che ho chiamato erboristeria intuitiva dove non si conoscono solo le piante come realtà botanica o come specie salutistica officinale ma anche si mette l'accento su quello che è la nostra relazione col mondo vegetale quindi cosa succede magari dentro di noi quando siamo davanti a un albero particolare piuttosto che cosa succede quando in una determinata giornata con le sue caratteristiche che può essere una giornata calda fredda in cui sono di buon umore cattivo umore tutto quello che ci può essere assumo tramite tisano integratore una determinata pianta quindi non soltanto un approccio più tecnico che comunque in parte porterò ma anche proprio un approccio personale quindi dare degli strumenti perché ognuno possa fare la sua esperienza unica ognuno di noi unico questa è un po la mia mission ho pensato di creare questo cerchio proprio come uno spazio dove poter esprimere questo perché ho già fatto diversi corsi sia online che in presenza anche più esperienziali dove si creavano delle cose pratiche con laboratori e tutto ma volevo creare qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo dove la domanda che è quello che poi troveremo che tornerà anche più avanti dove la domanda la facesse un po da padrona quindi non tanto dare solo delle risposte ma usare le domande come fossero un po delle bussole no immaginiamoci di essere in un mare in un mare di conoscenza e di informazioni che è quello del paesaggio quindi fatto sia di piante ma anche di pietre di animali di tutto il resto e di dire ok ora dove vado e già ok ora dove vado è una domanda no che ci porta già a fare un primo movimento quindi ci sposteremo in questo mondo grazie a delle domande e sono domande che in parte porterò io ma in parte porterete voi già con quelle che ho raccolto nelle settimane scorse e quelle che raccoglierò anche durante il corso quindi non ci sarà un percorso unico ci sarà una traccia che io ho già dato ma qui si aggiungeranno tante altre cose secondo i vostri interessi e secondo quello che emerge dal gruppo no il gruppo la sua coscienza e qualcosa viene sempre fuori anche di inaspettato quindi questo è un po la strada che prenderemo vi ho detto chi sono più o meno cosa faccio anche se poi mi occupo di tante altre cose collaboro con asili nel bosco mi occupo di educazione in natura faccio anche diciamo così consulenze individuali in studio online quindi tante altre cose che se avrete curiosità poi ne parleremo ma mi piacerebbe se avete voglia anche voi di semplicemente dire una parola cioè dire o come siete finiti qui o cosa vi piacerebbe ricevere dall'incontro di oggi o eventualmente da questo percorso se deciderete di scrivervi quindi se vi va chi vuole può smutarsi o scrivere nella chat e dire il proprio nome e un'aspettativa una così un seme lanciato per l'incontro di oggi o per questo percorso intanto che vi lascio questo tempo per pensarci un attimo vi aggiungo un pezzetto che ho dimenticato prima le regole del gioco le regole del gioco è non prendete cento per cento vero quello che vi dico nel senso che io vi porto la mia conoscenza la mia esperienza al confronto che ho avuto con le altre persone sul mondo delle erbe ma non prendete per oro colato quindi prendete quello che vi serve quello che vi funziona e il resto potete lasciarlo andare e l'altra cosa non esistono cose giuste cose sbagliate in quello che ci diciamo quindi se se qualcuno dicesse fino ad oggi non ho sopportato le piante oggi vorrei conoscerle va benissimo se dice ogni volta che vedo un filo d'erba mi fermo un'ora ad annusarlo va bene uguale quindi non c'è giusto non c'è sbagliato e non c'è obbligo quindi ora vi dico se volete dite il vostro nome è una parola se non volete no c'è lo spazio per entrambe le possibilità intanto do il benvenuto anche a claudia che si è appena collegata abbiamo fatto solo un piccolo cappello dove io ho raccontato più o meno cosa faccio e come sono arrivato a questo mondo delle erbe e ora ho lasciato un attimo a voi la palla se vi va di dire semplicemente il vostro nome e una parola una frase su cosa vi piacerebbe ricevere da questa sera o da questo percorso se vi scriverete ok ok allora io sento un bel silenzio e di solito il silenzio nella mia piccola esperienza vuol dire curiosità spesso quindi mi prendo questo spazio e intanto leggo un messaggio un commento voglio dire conosce meglio questo meraviglioso mondo grazie tatiana e benvenuta benvenuta visto che poi ci siamo sentiti solo via messaggio e quindi benvenuta anche in questo spazio e intanto che questa parola queste parole possono risuonare anche dentro di voi visto che comunque quello che faccio come ho già accennato prima lo ripeto per claudia è creare un movimento quindi non tanto dire ok ora finché non tutti non parlano non ci muoviamo di qui ma sono domande che creano uno spostamento e quindi arriva quel che arriva e va benissimo così e allora approfitto per aggiungere un pezzetto ho parlato di cos'è l'erboristia intuitiva nel senso di come mai è nata ma volevo dirvi due parole proprio su cos'è almeno potete orientarvi l'erboristia intuitiva ha tre basi sostanzialmente che sono abbastanza semplici se vogliamo ma secondo me molto più ricche di quello che possono di quello che può sembrare la prima è la parte teorica la parte teorica che come prima ho accennato si rifà anche alla parte più tecnica più scientifica più delle ricerche di quello che sappiamo oggi sulle piante e di quello che contengono dall'altra parte in realtà io integro molto anche delle conoscenze più più antiche più diciamo preindustriali come le chiama spesso un mio maestro di erboristeria che sono quelle della medicina mediterranea che fa capo a galeno avvicenna ipocrate il de garda e tanti e tanti altri che hanno portato ognuno a loro modo una conoscenza che come se venisse da un filone unico quindi tanto sfaccettata quanto con lo stesso cuore e quindi chi seguirà questo corso sentirà parlare anche di caldo di freddo di umido di secco di bile di flemma di parole un po strane che però appartengono a una cultura che ci ha portato una conoscenza ancora viva del mondo naturale quindi non distaccata come è successo dall'industrializzazione in poi che ci ha portato altri doni di altro tipo ma che ci ha fatto anche perdere alcune cose quindi a me piace avere come base teorica sia una parte più moderna che una parte più antica oltre a questo c'è sempre una parte pratica quindi chi partecipa ai miei corsi sia in presenza sia a distanza mi piace sempre dare gli spunti pratici quindi qualche ricetta qualche accorgimento su come usare certe piante su come mischiarle su come estrarle su come avere anche qualcosa di bello quindi sia qualcosa di buono ma anche qualcosa di bello e la bellezza per me è molto importante in questo senso quindi pratica ma anche pratica personale quindi non solo pratica come dire mettere le mani in pasta spignattare creare che è importantissimo ma anche come pratica più di contatto ecco di contatto quindi darò degli spunti anche qua chi vuole prende chi non vuole lo lascia lì e magari lo prenderà più avanti se gli interessa spunti di respirazione di contatto col corpo di presenza di qualche chiave che semplicemente ci permette di fare un'esperienza più completa e più autentica portando noi stessi a contatto col mondo naturale e qua saranno dei spunti per chi li vuole cogliere che però ci aiuteranno durante il percorso e infine questo in realtà ci porta alla terza base della delle bristeria intuitiva aveva teoria pratica e consapevolezza consapevolezza in cui verremo aiutati da questi strumenti ma in realtà consapevolezza che io definisco di solito come sapere quello che si sta facendo semplicemente quindi la consapevolezza può essere più vicina al mondo diciamo della mindfulness per chi conosce la mindfulness di di presenza corporea presenza nel sapere dove siamo come fatto lo spazio intorno a noi come è fatta una certa pianta e come è fatta una certa pianta cosa ci dice di quella pianta e anche consapevolezza che poi viene da sé relazionale quindi ecologica se vogliamo quindi dire ok ma se sono in un posto dove ci sono 20 piante non ne raccolgo tutte 20 no ma è una cosa che poi viene automatica se facciamo altri passaggi quindi teoria pratica consapevolezza ci daranno un po le basi su quello che saranno questi sei incontri e anche altre esperienze di arboristia intuitiva se ne farete altre con me e vi chiedo se intanto fin qua c'è una domanda se avete curiosità non so voi ma io in questi giorni bevo tanto quindi ogni tanto mi vedrete così con il bicchiere ok grazie tatiana e allora prima di dirvi i contenuti di questo corso e come è strutturato vorrei fare un piccolo gioco con voi e anche qui se vi va lo fate se non vi va non lo fate potete farlo scritto o a parola come vi viene più facile chi desidera farlo vi farò vedere l'immagine di una pianta che probabilmente molti di voi conoscono però non è importante semplicemente prima di farvela vedere vi guiderò un brevissimo momento ma sarà un minuto esagerando di contatto corporeo chi vuole può farlo con gli occhi chiusi chi vuole può farlo con gli occhi semplicemente non fissati sul monitor ma morbidi verso il basso e questo vi chiederò di mantenerlo come stato quello che guiderò molto breve mentre vedrete l'immagine e vedere semplicemente cosa emerge può essere un'emozione un ricordo un essere attirati o respinti una sensazione fisica un pensiero anche qua non c'è giusto non c'è sbagliato è semplicemente un gioco come come i bambini quando giocano giocano in modo serio tra virgolette no è un gioco quindi giochiamo ok quindi prima di mettere l'immagine vi chiedo di semplicemente stare comodi senza prendere una posizione particolare ma semplicemente stare comodi e se volete potete o chiudere gli occhi ottenere lo sguardo morbido verso il basso portiamo solo un attimo l'attenzione a dove il nostro corpo tocca dove sono i piedi il loro peso sul pavimento sulla sedia percepiamo un attimo come orientato il nostro corpo nello spazio e portiamo l'attenzione al ritmo del nostro respiro e portiamo l'attenzione al ritmo del nostro respiro proviamo a fare un respiro un pochino più profondo se riusciamo senza esagerare portiamo un attimo l'attenzione anche al nostro ombelico se vogliamo possiamo anche poggiarci una mano se ci aiuta facciamo ancora tre respiri leggermente più profondi di prima e approfittiamo di questo tempo di questo spazio per sentire se il nostro essere e il nostro stare è uguale a prima o se c'è qualcosa di diverso ora se non li abbiamo chiusi se è possibile chiudiamo un secondo gli occhi facciamo ancora un respiro e quando vi sentite potete aprire gli occhi e guardare lo schermo senza per forza cercare qualcosa ma lasciando emergere quello che c'è la passiflora la passiflora e vi chiedo se vi va visto che poi non vorrei togliere l'ultimo tempo per dire due cose sul corso se vi va di dire anche solo la prima cosa che vi è arrivata quando avete aperto gli occhi e visto questa pianta dire o scrivere sicuramente di gioia e di pace è un sorriso ecco grazie Simona a me è un po' come il girasole come un senso di energia grazie ti rompo un attimo scusate lo schermo ok perché sennò non mi dava la chat e non riuscivo a leggere Cinzia dice magia, perfezione, forza, danza grazie Cinzia e poi vabbè intanto saluto Tatiana che l'aigo sull'ora che si è dovuta staccare poi lo sentirà nella registrazione e vi chiedo intanto se state bene se siete a vostro agio se siete qua perché se mai vi sentisse magari un po' disorientati che a volte succede quando magari si fa attenzione più al respiro si respira più profondamente il trucco è tornare a percepire bene i piedi i piedi sulla terra il proprio peso magari bere un goccio d'acqua intanto so che sto dicendo mille volte grazie ma questa chiamatura sta andando così vi ringrazio tanto perché non è ovvio concedersi questo tempo e questo spazio per fare una piccola pratica insieme e condividere anche nel senso che è una cosa che io dico sempre alle persone che non è affatto scontata e quindi vi ringrazio per questo e intanto che lasciamo tutto sedimentare vi dico due cose pratiche sul corso le date me le sono prese qua così da non sbagliarmi le date saranno a cavallo tra luglio e agosto saranno sempre di domenica e martedì ma sarà possibile come dicevo per chi volesse seguire chi non potesse seguire in diretta avere la registrazione la registrazione sarà tramite video privati di Facebook scusate di YouTube che quindi potranno essere visti solo dalle persone che accederanno a YouTube con quell'indirizzo email quindi saranno solo per voi e chi non avesse facilità a fare questo con YouTube troviamo un altro sistema che può essere un invio diretto o un'altra piattaforma però sempre privato così sapete che avete il vostro spazio e la vostra tutela in questo le date quindi saranno il 24 e 26 luglio per chi seguirà in diretta il 31 e il 2 agosto il 7 e il 9 agosto quindi finiremo il 9 agosto le ritroverete intanto nel modulo che vi manderò per l'iscrizione così potete rileggervi tutto e decidere cosa fare e come potrete avere intuito da prima sarà un percorso in parte strutturato in parte no ovvero in questi sei incontri avremo ognuno una domanda cardine che scoprirete durante il corso che hanno preso ispirazione un po' dalle vostre ma un po' da quelle che ho raccolto negli anni come curiosità delle persone sul mondo dell'erboristeria e grazie a queste domande seme diciamo così e a delle piante che incontreremo nelle nostre sei puntate andremo a scoprire diversi aspetti del mondo dell'erboristeria questi includeranno sicuramente la stagionalità quindi i cicli dell'anno quindi quali piante ci sono durante l'anno e cosa ci possiamo fare con queste piante incontreremo sicuramente le diverse preparazioni quindi le tisane gli oleoliti le tinture gli idrolati gli oli essenziali insomma le varie cose che si ricavano dalle piante anche come preparazioni poi salutistiche o anche solo di gusto e arriveremo poi anche a scoprire alcuni aspetti un po' più sottili dell'erboristeria visto che mi è stato chiesto ed è una cosa che ho visto che ha fatto molto molta curiosità diciamo così quindi andremo anche a scoprire come queste piante agiscono sia sul nostro corpo fisico ma anche su aspetti un po' più interiori che uno poi li veda più da un punto di vista più come posso dire mentale psicologico più energetico più spirituale andremo a vedere comunque diversi piani quindi anche qua ognuno poi prenderà quello che gli funziona quello che gli piace di più quindi 6 domande una o un insieme di piante per ogni puntata a seconda del tipo di pianta perché alcune piante saranno talmente importanti da avere la loro puntata dedicata altre magari saranno famiglie di piante che vedremo insieme e ci saranno sempre spunti e ricette pratiche questo è come funzionerà il corso e durante il corso se avrete cose che vi incuriosiscono le potremo aggiungere potremo esplorare e vi dico anche così diciamo prima di chiedere a voi se avete domande o se volete salutare anche come sarà strutturato ogni singolo incontro dureranno un'ora saranno via zoom il primo pezzetto sarà dedicato soprattutto dal secondo incontro alle domande che possono essere state fatte tra un incontro e l'altro a chi mi chiederà delle cose ne parlerò nella puntata in modo che possano saperlo anche gli altri quindi saranno domande utili per tutti spero utili per tutti ci sarà la parte centrale che sarà il nostro incontro effettivo e la parte finale diciamo che avrà sempre un aspetto un po' più pratico un po' come quello che abbiamo fatto prima e di ricapitolazione della puntata stessa in modo da avere un po' un ponte che ci colleghi tra tutti e sei gli episodi diciamo così un po' come fosse una foresta fatta da sei lezioni vi chiedo se avete domande o se non avete domande chi deve scappare se gli va o le va di dire una parola o anche solo pensare una parola su cosa diciamo su cosa vuole portarsi a casa di questo breve piccolo incontro fatto insieme un po' l'opposto di quello che abbiamo fatto all'inizio all'inizio era una così un intento ora è cosa ci portiamo a casa un po' per chiudere un cerchio non siete obbligati a scriverlo o a dirlo intanto se avete domande me le potete fare non esistono domande stupide questo lo dico sempre secondo a quello che hai chiesto sicuramente diciamo che cosa che cosa porto a casa ecco un pelino di esperienze in più nel senso che comunque è stata una chiamata questa in qualche maniera e allora sicuramente credo che a qualcosa potrebbe servire bene grazie simona volevo invece fare una domanda molto più pratica assolutamente il costo brava ecco vedi ero un pezzo che ho dimenticato ok il costo del percorso intero quindi delle sei lezioni con tutte le registrazioni anche per chi volesse poi riguardarle è in tutto di 40 euro per tutto il ciclo di incontri grazie e poi sarà possibile pagare in vari modi bonifico paypal post e pay stati space se qualcuno a Genova me li può dare dal treno insomma poi quello assolutamente senza problemi volevo condividervi anche vediamo dove ce l'ho dove ce l'ho dove ce l'ho per salutarvi volevo anche condividervi il modulo di iscrizione poi tanto lo manderò anche sui social ci sono quasi che ora hanno reso un po' più complicato facebook per le pagine quindi devo andare a recuperare tutte le cose eccolo qua business suit ok allora questo modulo che vi sto per mandare praticamente è un modulo di google non so se li conoscete serve per raccogliere tutte le informazioni che mi serviranno sia per fare la vostra iscrizione per chi si iscriverà sia per farvi poi la ricevuta dopo il pagamento quindi ho scritto in chat il modulo lo troverete poi anche sul canale telegram per chi fosse iscritto che è erboristeria intuitiva mi trovate su telegram lo manderò anche nell'evento di facebook e comunque potete scrivermi privatamente sia via mail vari social per riceverlo spero che voi siate stati bene che sia stato un momento bello anche per voi per me lo è stato e mi porto a casa da questo proprio la voglia di domande perché è una cosa che mi chiamava da un po' e fare una cosa a partire dalle domande sento che sarà molto nutriente molto divertente da creare con voi quindi spero di vedervi al corso e chiaramente se avete poi amici che possono essere incuriositi e tutto potrete mandar loro questa registrazione o direttamente quello per l'iscrizione se sono già super convinti vi ringrazio vi saluto e ci vediamo presto ciao a tutte grazie Marco grazie a tutti